ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video quest'oggi parliamo della crisi infinita nera finanziaria di motorsport games purtroppo è così motorsport games continua a vivere una crisi senza precedenti negli ultimi giorni l'azienda ha subito un'ulteriore ondata di licenziamenti colpendo duramente anche studio 397 il team responsabile dello sviluppo di r factor 2 e di le mans ultimate soprattutto questo avviene mentre il titolo continua il suo ciclo di vita in accesso anticipato con un passagionale e dlc già disponibili per i giocatori e lo sappiamo tuttavia motorsport games ha dovuto fare delle scelte difficili negli ultimi 24 mesi in particolare l'azienda che ha sede a miami ha visto una riduzione costante della propria forza lavoro a settembre 2022 l'ex ceo dimitri kosko aveva avviato un piano già di risultazione trasformativa sperando di salvare l'azienda dopo il fallimento commerciale di nascar 21 ignition da quel momento i licenziamenti sono stati una costante colpendo sia il team di sviluppo che i ruoli amministrativi con la nomina di stephen hood ad aprile 2023 come nuovo ceo la situazione non è migliorata solo quest'anno motorsport games ha licenziato gran parte dei suoi dipendenti negli stati uniti chiuso un progetto di gioco come indicar a novembre 2023 e tagliando ulteriori posti in europa nel corso del 2024 quindi il discorso della licenza riacquisita a pochi soldi era quasi un barlume di speranza la riduzione di personale ha colpito la parte di garanzia della qualità produzione marketing design con una perdita di circa 20 dipendenti in totale un membro senior del team studio 397 ha dichiarato su linkedin ho ricevuto una lettera sulla ristrutturazione sul rischio di licenziamento al momento non ho altre informazioni ma sto cercando nuove posizioni quindi un lavoro ragazzi sta cercando un altro ex dipendente ha affermato purtroppo sono stato licenziato da studio 397 motorsport games a causa di ulteriori riduzioni della forza lavoro sono estremamente grato di aver lavorato con persone talentuose e appassionate ho dato tutto quello che potevo in questi tre anni di azienda nonostante questa situazione critica motorsport games ha registrato comunque alcune note positive il ceo stefan hood ha dichiarato ad aprire che la mansa ultimate aveva venduto più in 36 ore di quanto previsto per 10 giorni durante il suo lancio in accesso anticipato inoltre circa il 13 per cento dei giocatori ha acquistato i contenuti dlc opzionali l'azienda ha anche annunciato di voler accelerare i piani per portare le mansa ultimate su playstation e xbox ma non è ancora stato confermato se lo sviluppo sia in corso nonostante il successo iniziale di le mansa ultimate motorsport games deve affrontare diverse sfide oltre al lavoro sui dlc del british touring car championship per r factor 2 l'azienda dovrebbe ricevere entro la fine dell'anno un'iniezione di 500 mila dollari da racing per la vendita di diritti sui videogiochi basati sulla licenza nascar tuttavia questo accordo vedrà la rimozione di dei titoli nascar pubblicati da motorsport games i quali rappresentano il 55 per cento dei ricavi dell'azienda tra maggio e giugno 2024 con un team ridotto a una serie di sfide finanziari il futuro di motorsport games e di le mansa ultimate ragazzi rimane davvero incerto motorsport games continua a combattere in un mercato difficile riusciranno a superare questa crisi solo il tempo ce lo dirà come al solito ragazzi se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un pollice in su ditemi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti ed ovviamente iscrivetevi al canale tanto è gratuito noi ci vediamo prestissimo da fabbri se è tutto un abbraccio ciao